si ottima prestazione delle ragazze hanno interpretato molto bene la partita con l'atteggiamento giusto sapevamo che trovavamo una squadra che era in salute perché nelle ultime quattro partite sempre fatto il risultato quindi dovevamo fare una grande prestazione le ragazze sono state brave io sono felice per loro perché vederle ridere scherzare festeggiare era un po che non succedeva questo è brava brave loro e che gol aggiungo perché sono stati tutti i gol di ottima fattura addirittura il primo provato ieri in allenamento è venuto alla perfezione uno schema su punizione c'è da essere felici adesso il nostro percorso non finisce qui molto probabilmente con la vittoria di oggi abbiamo conquistato una salvezza cinque giornate alla fine però dobbiamo continuare adesso le ragazze non possono fare un passo indietro dobbiamo continuare nel nostro percorso passettino dopo passettino e cercare poi di arrivare quinti come ci eravamo prefissati all'inizio abbiamo avuto modo di lavorare con quelle che sono rimaste qua adesso poi aiutati anche dai gps della mapei ci stanno dando una grossa mano e sappiamo qual è il vero stato della di ogni ragazza infatti io non scelgo la formazione in base gps però ci possono dare un aiuto sicuramente per vedere le ragazze come stanno e credo che oggi dalla prima all'ultima anche quelle che erano in tribuna chi 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 entrava o chi chi avesse giocato sicuramente dava il massimo e la dimostrazione è stata questa grande vittoria sì abbiamo in casa il tavagnaco che è una squadra tosta una squadra bene compatta e tanti anni che in serie a e noi dobbiamo cercare di fare la prestazione che abbiamo fatto oggi per portarvi in risultato positivo fare gol una bella sensazione però quello che importava oggi era fare risultato oltre alla prestazione che era una cosa che facevamo da molte partite però non arrivava il risultato quindi contenta per il gol però abbiamo cercato e voluto fortemente questa vittoria da arrivata sì sicuramente eravamo un po' tese perché comunque sentivamo molto la partita fare gol subito nel primo tempo c'è un po' sbloccate e da lì in poi comunque abbiamo fatto delle ottime cose siamo arrivati ad avere il gruppo completo a pochi giorni fa per cui comunque siamo arrivati a questa partita determinate eravamo un po' tese però siamo riusciti a giocare a giocare a viso aperto abbiamo fatto una buona partita sicuramente arrivavamo sicuramente da un periodo non felice queste tre settimane ci hanno dato modo di riprendere fiato e staccare magari anche un attimo la testa adesso ripartiamo da oggi da questo risultato per completare le partite che mancano da qui alla fine con il massimo impegno cercheremo di portare a casa tutti i punti possibili andare via con la nazionale è sempre una bella esperienza un grande onore l'esperienza è andata bene abbiamo fatto due amichevoli è stato è stata una settimana molto bella però adesso siamo tornate qua e pensiamo a sassuolo grazie 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 grazie